Flessibilità è il motore dell'innovazione nell'ecosistema finanziario, questo è il titolo del talk organizzato da Finico Asset Management in occasione della Salone del Risparmio, il titolo del talk che ha visto la partecipazione di Oscar Farinetti che ha raccontato come la flessibilità abbia plasmato il suo approccio al mondo dell'impresa e dell'imprenditoria, ma veniamo al mondo invece della finanza, come deve essere interpretato, applicato il concetto di flessibilità in un momento come quello che stiamo vivendo, anche in procinto di una politica monetaria che sta per cambiare? Sì, diciamo che sicuramente la caratteristica di essere flessibili è un elemento differenziante, soprattutto i mercati che cambiano in maniera così rapida, non solo da un punto di vista endogeno ma anche esogeno, eventi geopolitici, permette ovviamente di reagire in maniera estremamente rapida a quelli che sono dei contesti in continuo cambiamento, per noi è un elemento differenziante perché ci permette di stare più vicino ai clienti, la rete di consulenti, la possibilità di avere un percorso di innovazione, di cambiamento, di flessibilità in grado di sopportare e supportare i bisogni della clientela finale. Direi che è un unico elemento che ci contraddistingue e ci permette di fare un percorso di crescita anche in un momento per l'industria del risparmio gestito, non particolarmente florido. Ci sono degli strumenti in particolare che Fineco mette a disposizione della propria rete e dei clienti appunto per fronteggiare questo momento, per riuscire a costruire ad esempio un portafoglio resiliente e capace di trovare rendimento? Con un po' di coraggio abbiamo pensato di innovare tutto il portafoglio tipico di un gestore, abbiamo introdotto per primi in Italia gli strumenti passivi, come gruppo italiano non era mai successo, li abbiamo declinati poi in ETF, abbiamo pensato che un portafoglio moderno e flessibile non può precludere da sposare sia le strategie attive che le strategie passive in un contesto di ottimizzazione dei costi per esempio. Ecco, sono tutti passi in termini strategici che creano la possibilità per tutti i clienti di poter agire in maniera dinamica a quello che è un contesto in continuo cambiamento.